La psichiatria dell'Asle di Biella attiva un servizio di telemedicina per il sostegno psicologico legato all'emergenza Covid. Psicologi e psicoterapeuti mettono a disposizione una linea telefonica per gestire situazioni di ansia o disagio causate dalla pandemia e garantire assistenza alla cittadinanza anche durante la momentanea riorganizzazione delle attività ambulatoriali. Supportando USCA e medici di medicina generale e quindi la struttura complessa di psichiatria mette a disposizione un supporto legato al prolungarsi dell'emergenza. Da oggi viene infatti attivato il servizio di telemedicina rivolto agli adulti residenti sul territorio dell'azienda sanitaria biellese dedicato alla gestione delle conseguenze della pandemia. Il servizio di telemedicina condotto da psicologi e psicoterapeuti dell'Asle è dedicato a interventi di sostegno finalizzati a prevenire e contenere l'insorgenza di disturbi d'ansia, depressione e stress post-traumatico. Ciò anche per garantire adeguata e tempestiva assistenza alla cittadinanza nonostante lo stop delle attività sanitarie ambulatoriali. Il servizio si svolgerà tramite linea telefonica chiamando il numero 334-664-1641 dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 9.13.